Francesca è bella hai detto io Francesca è bella ragazzi questo video inizia con hai detto che Francesca è bella questo video è un video puramente troll ora voi direte chi è Francesca Francesca è la mia ex ragazza muori ok si è arrabbiata per motivazioni che logicamente non sto qui a spiegarvi perché non le conosco neanche io mi piacerebbe saperlo ma non lo so però vi do il bentornato il bentornato su docker battle ovvero oggi ho formato come un cane nero africano ed ho fatto 200 dragon gemstone guazzazzà quindi tentiamo di nuovo la fortuna cerchiamo di nuovo l'lr e cerchiamo di nuovo l'lr di Francesca di Francesca ok cerchiamo di nuovo l'lr di Francesca legge sperando a vabbè ragazzi ho mangiato come un porco quindi mi vedete ingrassato andiamo a fare queste multi salmon sperando che mi vada bien nel caso in cui mi vada mal piangerò 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 facciamo un po' il volume in modo che la potenza lo sentite anche voi ok aia lei è sempre arrabbiata per cose successe più di cent'anni no no ti vuoi dire che Francesca è bella bellissima se Francesca si guarderà un giorno questo video non mi fai fare tante di quelle figure di merda che te ne frega ma che me le potta appunto perché stai nominando una persona che non esiste nella mia vita da seguito tu l'hai nominata ragazzi per sicurezza facciamo giusto uno sguardo su che cosa può uscire dal banner più importante loro mi mancano loro mi mancano sì lui lui non mi ricordo neanche se ce l'ho lui ce l'ho lui non mi ricordo ce l'ho non ce l'ho però può uscire ancora questo budget che mi manca anche se non so se sia migliore di questo però budget per budget andiamo però ricordiamo che il pull è fatto semplicemente per loro anche se potrebbe pullare di qua per gugetta di quarto livello però sono troppo azzeccato psicologicamente a budget che deve uscire un budget con la faccia di Francesca il budget con la faccia di Francesca vabbè ragazzi ci buttiamo budget viene a me ti prego non mi deludere non mi deludere non mi deludere perché perché ho bisogno di te vecchio ho bisogno di te ti prego terzo livello no non uscire prego ti ma che sono io sono io non cogliere no c'è questo 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 è uguale che è uguale? non è? bellissimo tutti questi uguali venti kid who? vai benissimo 17 stupendo bellissimo ecco il SSL uguale guarda tengono proprio la stessa forma chi? lui è calda a bagno no no mi avevi dato un'emozione verso il no è buono questa cosa? no l'odio perché è vegeta non lo so se è buono ottimo basta che non ti piacere va bene no Sharon la perché vai bene no no non vai bene è bellissimo tutti uguali tu ma perché li rifà la stronza? yeah non c'ho più stun se non mi escono qua non mi uscirà mai più gadget arcobaleno dai dai terzo livello terzo livello terzo livello terzo livello però arcobaleno dai dai no no Gohan Gohan no 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 17 ancora dai vai benissimo dai come si impari? ottimo cross dai ancora per uomo ti amo almeno due ssr ti prego ti scongiuro ti prego scusa dici che è uno scaldambagno è uno scaldambagno non lo pensi davvero tu chiedi ce lo giuro ce lo chiede lo pensavo tutto il cuore ti scongiuro ti scongiuro mi serve quel gadget ti prego amore mio ti scongiuro ti prego ti prego ti prego ti prego quanto ti amo quanto ti amo ti prego ti prego me lo fai uscire no hai detto che è bello ti prego vieni qua non mi toccare Giuda 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 se ti fai baciare esce ok esce 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 dove cavolo sta il garantito no 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 almeno mi potevi uscire Grotex di diverso livello ok ti dicevo ok ma no ragazzi le ultime due multisummon e tutto il mio tutto tutto ciò va va a pulire io te lo sa sempre che dei miei messi cogliano eh ho capito ma non fa cogliere a me però c'è è sbagliato amore ha sbagliato a fa che cosa dai vedete che bello ragazzi almeno a voi vi scongiuro ma ti piacciono i trentenni? io mi c'è datemi la vostra forza vi scongiuro datemi non solo per sopportarla ma anche per fare questo grandissimo non capito è che una magica che ha il resto dei dei miei messi cogliano però c'è qualche picchettino a fare dopo ci speriamo ragazzi altre due multisummon le ultime due le ultime due le ultime due le ultime due ti prego ti prego ti prego ti prego non uscire ti prego vai nooo potevo uscire non scopo che si è sparcavato sono le mie pantofole ti terzo livello più più arcobaleno kid boo kid boo non posso se no si sente male perchè tengo l'audio alto kid boo Vegeta sposta lo schermo qua ok perchè ti vuoi vedere tu esatto dai raga era arcobaleno più coso non può almeno due ssr io sto donendo se ne guarda quanto sembro carina e nocce certo dai ma che che grazie trazo poter perdonare l'ultimo duri ti prego ti spungono ma la pelo è l'ultimo sabato letti perdonare scusami no io te scuse ti prego né vede Tu hai detto il tuo cappello? Nella foto dove state insieme, dovrete stare in braccio? Ma ti rendi conto che se vede questo video si pensa che... Ma come ne frega! Io sono... Ma non mi ha aiutato... Ragazze, l'ultima possibilità... Vabbè, almeno è contenta perché io sto rosicando per te, tu hai detto il tuo cappello Tutti i miei sogni si entrangono qui, in questa ultima summon, tutti i miei sogni si stremano Tutti i miei sogni di giocare la tua campagna Dai, a questa non te l'ha, non te l'ha Non è uscita neanche la cupa lenta, proprio scorsi anni, quindi peggio di così non poteva andare Io non te la fai Terzo livello, almeno terzo livello di nuovo No, 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 no Cioè, tu, 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 non ti ho mai visto in tutti i pulle che ho fatto, solo stasera stai uscendo a ripetizione Go, thanks, diva No No, dai, un altro SSR, ti prego Dai, ti prego, gioco, non fare l'infame con me Dai No Nooo 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 Eh sì, quante me ne mancano due Non ho contato Quella cosa orrenda, no No Vabbè raga Tutti i sogni e tutte le speranze crepano qui Sì Purtroppo Nell'account Non mi è uscito quello che è Non so neanche più dove prendere le stone, quindi Tutti veramente, davvero tutti i miei sogni purtroppo finiscono qui Purtroppo la cosa è reale, tutti i miei sogni finiscono qui Vedget Non ne ha voluto sapere Io ci ho sperato, ci ho sperato tutto il cuore Ma Vedget ha detto no a Valsoia Eeeh Penso anche che tutti quelli che sono usciti siano totalmente in print Magari voi che ne sapete più che mi potete dire se qualcosa è utile Ma sembra che sia uscita soltanto Cioccolata Per non dire brutte parole Si è uscita soltanto cioccolata Sfume da ieri a oggi sto avendo più schia con la pala Dai, spaccati lo schermo, ti sponjuro almeno questo Spaccati lo schermo, spaccati lo sch... no Ragazzi Sfiga con la pala Questo video è totalmente da pupare Cioè non vale neanche la pena caricarlo ma ve lo carico lo stesso Cosa sei tu con la tutina rosa e con... perché sei in erezione? Perché sei in erezione? Raga ho finito tutte le storie Tutti i miei sogni Ci sono morti Sono morti Sono morti Eeeh 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 Potevo La fortuna non è... Eeeh 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 mi sto confondendo, anche Gotenks, è il giallo che vogliamo chiamare, è il colore del Zangara, quindi può andare bene magari nel film anche perché ci sono loro che sono qui, non so se si chiamano qui, scusa dopo che ho fatto la remota, scusa, Veget, Super Saiyan, Veget blu e Gotenks, purtroppo, vabbè Goku, Super Saiyan, non so che farmene davvero, purtroppo il mio sogno è morto qua, in questo momento non penso che riuscirò a formare altre stone, nel caso in cui riesco a formare altre stone porterò un altro video, ma per stasera è tutto, per stanotte è tutto, non è andata come volevo io, in ogni caso vi ringrazio per aver seguito il video, spero, in un like, spero, in realtà abbiamo fatto il video soltanto per far vedere tutti quanti, che io sono Tarnata Rosa, no, tu e tu, tu, tu pensi che io, vabbè, abbiamo fatto il video si per far vedere che hai letto Natarosa e per far vedere che sono sfigato come la merda, proprio in maniera palesa, vabbè, ragazzi, vi ringrazio per aver visto anche questo video, ci becchiamo alla prossima con, non so, qualche video pull o qui o su qualche video game play su Wall in Page, per questa volta è tutto.